l'8199 storia posteriore del regno 34 corrispondenze con raccomandata espresso molto molto interessante affrancatura a tre colori questa indubbiamente siamo Questo è il verso di lettera, queste come al solito sempre molto scenografiche. Come vedete l'insieme è molto ben assortito. E' di buona qualità generale. Questa è filatelica, una roba così. Questa è molto bella. Qua manca un francobollo. Questa è filatelica. Se volete altri video o informazioni scrivete a filateliachiocciola4baiocchi.com. Grazie.